Ci siamo interfacciati su vari argomenti con Vincenzo Detto Enzo Di Gregorio, candidato al Consiglio regionale pugliese con il Partito Democratico. Ora è il momento dell'appello al voto. Di Gregorio, immagini di avere dinanzi a sé ogni potenziale elettore. Cosa si sente di dire per barrare il simbolo Partito Democratico e scrivere il nome Di Gregorio? Vi chiedo di votare per me perché sono una persona umile, semplice, sono un operaio della politica, un politico da marcia a piede nel senso buono della parola, perché ho un'esperienza amministrativa di 25 anni, perché sono l'unico vero punto di novità nel Partito Democratico in questa campagna elettorale. Quindi votate per me, barrate il simbolo del Partito Democratico, scrivete Di Gregorio, un passo alla volta, sempre dalla stessa parte. Grazie a tutti.